Allora, con Gino Bianco del Circolo della Stampa, perché questo incontro con imprenditori turistici e amministratori? Il turismo rappresenta da sempre uno dei pilastri per l'economia di questa città. Da sempre sentiamo la polemica spesso da parte dell'amministrazione verso gli imprenditori, dall'altra gli imprenditori verso l'amministrazione. C'è la necessità di costruire un percorso comune se non vogliamo perdere quel treno famoso che ci ha toccato negli anni passati e che vogliamo portare avanti per rimanere un punto di riferimento turistico a livello internazionale.